Mercoledì 29 luglio 2009 ci troviamo ad Ortucchio in provincia dell'Aquila in Abruzzo un bellissimo paesino che vi consigliamo di visitare questo è il famoso castello dei piccolomini dall'iscrizione che abbiamo potuto notare all'entrata del castello a cui si accedeva penso tramite un ponte elevatoio vedete qua sotto c'è tutto un fossato che anticamente era riempito d'acqua posso immaginare qua c'era il ponte elevatoio ci indica appunto la provenienza piccolomignana e la data dalle fondamenta nel 1488 è un castello tenuto abbastanza bene nel senso sarebbe bello visitarlo dentro e niente venite qua a Ortucchio in provincia dell'Aquila perché insomma tra le tante meraviglie c'è anche questa noi ci vediamo tutti e tutti su ematube.it